cari nipotini un grosso abbraccio a tutti grazie per ascoltare questo audio zioac migliorati.org ec life il mio diario di un life hacker bio hacker dicembre 2020 attenzione ascoltatelo fino alla fine perché c'è un annuncio importante riguardo a questo diario quindi l'ultimo mese del 2020 titolo è la mia casa un tempio e poi vi voglio dare il top 3 con un bonus dei miei giochi preferiti per l'oculus cast 2 che poi ne parliamo quindi lo scopo come sempre di ispirarti a migliorare la tua vita dandoti un pochino un diario un aggiornamento mensile della mia cosa ho studiato cosa ho letto cosa ho fatto ovviamente parziale perché se no non ce la capiamo più in breve come sempre ogni giorno come negli ultimi 36 anni ho medito sempre ogni giorno due volte al giorno circa 20 minuti al mattino appena sveglio più o meno appena sveglio prima leggo e 10 minuti alla sera questo caso proprio prima andare a dormire anche lì a volte leggo ma solo romanzi mi sono allenato 56 volte lo scopo del mese era un po riportarsi in riga con gli allenamenti penso sia uno dei miei personal record ma non lo so come intensità no perché poi nei mesi estivi eccetera esco di più 7 libri letti anche lì non è male un personal record ma vedrete che forse lo batto già o forse no forse non vedrete come vedremo alla fine a gennaio e poi oramai non riesco più a contarle però siamo oltre le 200 ore di materiale video audio studiato come faccio ma semplicemente per me l'apprendimento l'apprendere cose nuove è piacevole più che guardare o quanto guardare netflix è tutto lì ecco preferisco il mio flusso youtube vatti a cercare zioac come creare la tua tv per vedere come faccio ecco ho pulito riordinato completamente la casa con l'aiuto dei miei nuovi due robot domestici adesso poi negli investimenti ne parliamo ho creato la pagina dei percorsi con con gli audio con audio che guidano il sito per i nuovi clienti perché si mettano in pari il primo possibile e un progetto che è durato un anno ma non per colpa mia non certamente per negligenza e cose ma perché i muratori sono stati lentissimi ho terminato la stanza della nuova palestra adesso abbiamo posato il pavimento c'è una trave in alto che non si vede dove posso fare allenamenti sospese cose sospese quindi una trave molto robusta abbiamo imbiancato mancano ancora delle cose comunque vi ho messo la foto nel che troverete sia sul sito sul blog ecnews.net il blog e lo potete trovare andate sul sito migliore.org e cliccate sul blog e potete trovarlo anche nel pdf che metto sempre nel gruppo telegram con dentro tutto ecco quindi sono riuscito anche a rientrare nell'altra mia casa in montagna per il capodanno e un'altra cosa interessante ho vinto ho vinto la paura c'è un gioco per oculus cast che è ricchi plank experience tipicamente quello che tutti fanno provare i loro amici così li fanno cagare addosso sulla realtà virtuale non provano più niente che consiste in sali un ascensore va in un grattacielo e c'è una siccella e si percorre quella e vedi come ti senti è tutto disegnato con una graffita anche a poligoni un po da cartoni però in realtà quando uno poi le indossa di sali si cagare addosso ecco quella era una delle mie sfide per l'altezza l'ho vinta più avanti vi dico come nonostante il natale sono riuscito a perdere due chili che avevo preso grazie a quel fantastico allenamento della forza formulato con il culo per dirlo in altri termini come ho fatto mi sono concentrato sulle proteine e usando pasti sostitutivi con polveri proteiche anche lì adesso tra un po ne parliamo ecco poi una cosa interessante mi è piaciuto che luca mazzucchelli sul suo canale ha parlato della beneficenza che fa è una sfida che io guardo lancio ogni anno francamente ai ai formatori dicendo basta cioè basta mandare a fanculo proprio lo dico voi come clienti i formatori che continuano a dire quanto son ricco quanto son figo quanto son bello quello è tutto falso e fa bene montemagna fare una campagna contro questi falsoni farlocchi dico sempre se dovete vantarvi di qualcosa fatelo anche se anche lì c'è un po di ego però della beneficenza fatta e ogni anno ne faccio diversa primariamente alle persone vicine familiari eccetera che hanno bisogno secondariamente con secondariamente c'è una visto che ho un'università di formazione personale che hna supporto un'accademia delle delle arti in nord europa con importi anche significativi l'idea è sempre di dar più o meno il 10 per cento in beneficenza in realtà poi sommando tutto se ne da di più e c'è una cosa interessante che ho iniziato a fare un paio di anni fa che vi voglio raccontare è il mio modo di dare indietro non solo alla natura ma soprattutto alla bellezza quindi vedrete poi nel pdf o sul sito che ci sono due foto ho iniziato a nutrire un paio di anni fa due tortorelle in memoria di un mio amico che è stato per me più che un amico un mentore si chiamava michael clays aveva il nome spirituale di giri e era dedito nel suo giardino a nutrire questi questi uccellini ecco mi è rimasto molto di lui e una di queste era il suo amore per tutte queste creature e siccome ho avuto sempre animali cani gatti di vari tipi nella mia vita ultimamente ho scelto di averne di meno anche per potermi spostare più liberamente ecco c'erano però queste due tortorelle che venivano vicino a un giorno ho avuto l'idea di prendere dei vasi di mia mamma dove c'erano i fiori e riempirli di semi sono arrivate queste due tortorelle ecco in due anni poi vedrete nelle foto ce n'è più di una trentina e mi ho messo anche una foto di un albero invernale e se guardate sopra vedete dei puntini quelle sono tutte tortorelle e vi garantisco che non sono tutte ecco poi un'altra cosa del mese visto come dei successi ho preso e qui fa un po la parte dello sborone abbiamo parlato un po della beneficenza della natura adesso è un etto e mezzo di caviale che vedete nelle foto caviale di storione bianco italiano perché volevo provare questo super cibo fantastico fonte di omega 3 polifenoli sicuramente spettacolare purtroppo leggendo l'etichetta come sempre mai guardare il marketing in questo caso non ce n'è ma l'etichetta viene conservata le uova di caviale vengono conservate usando la borace che è una sostanza molto tossica quindi non so quanto sia un super cibo però è stata un'esperienza gustativa spettacolare ecco ho avuto anche ottimi risultati con il sonno e il recupero monitorandoli per un anno con l'aura ringo avevo il tipo 1 che non usavo molto trovate anche la mia recensione iniziale sul coso ci ho lavorato quest'anno approfittando del fatto che doveva essere anche un anno dedicato un po al riposo e devo dire che sono partendo da 56 infatti ho smesso di usarlo la ora ring perché mi dice sempre la stessa cosa anche i gladiatori debbono dormire continuano a dirmi solo quello e devo dire che adesso sono arrivato a un 90 di come record di readiness che è molto buona e un 85 di sonno che per me è fantastico perché per me dormire l'ottore è stato veramente un impegno però un impegno che paga i 56 allenamenti divisi tra hatha yoga 24 e crossfit 22 praticamente l'obiettivo del mese era non saltare allenamenti crossfit ne ho saltati solo due perché richiedevano un setup della mia palestra molto laborioso c'erano tanti esercizi quindi li ho sostituiti ecco regole in corso ve le leggete nel pdf però diciamo l'idea di cosa è importante il win what's important now come prima cosa al mattino qui è il famoso mangiarsi il ecco che arrivano le tortorelle fuori citandole è mangiarsi il rospo il rospo più 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 grosso come prima cosa le altre regole le vedete le vedete tu le vedete nel coso sono quelli degli altri mesi lo già citate ecco cancellato ogni abbonamento da master class perché perché non è una forma di miglioramento personale una forma di intrattenimento e in tre ore intanto non impari nulla anche se dall'altra parte c'è un esperto non sono specifiche comunque abbastanza riguardo alle abilità che servono e poi io preferisco quella che creo io che ne hai dove spiego delle meta abilità quindi delle abilità che vanno bene come come imparare meglio come cioè collegate ad abilità superiori che si applicano un po tutto quindi avere delle cose limitate che ne so alla fotografia al tennis a scrivere una sceneggiatura a fare rap queste cose se se ti serve veramente quel tipo di conoscenza e qui arriva il punto più importante cioè che tu devi essere al centro della conoscenza non un servizio che ogni mese ti propone questo e quel corso ecco è importante saper scegliere tu cosa studiare e qui si riporta alla self determination theory vi ho messo nel po il link a wikipedia perché è molto interessante guardatevelo un po di eduardici e odessi non so come pronuncia e richard ryan questo probabilmente pronunciato giusto ecco quindi l'autonomia della nostra formazione non può essere delegata a questi siti è intrattenimento preferisco il mio flusso youtube dove anche lì applico la regola che citavo prima le regole una delle più importanti se non è un super sì qualcosa un super no quindi se uno mi chiede sono in dubbio di una cosa la risposta se la dà già lui stesso che quando vorrebbe farmi la domanda quindi non chiedetemi mai cosa ne penso di se lo chiedete a me siete in dubbio un super no appunto quando verrà il momento che siete davvero motivati non dal marketing ma da voi stessi allora è quello il vostro super sì ecco c'è stato un esperimento che forzatamente la chiusura del mio account instagram perché usavo un app che non piaceva a instagram senza dialoghi senza cose ho facebook ho smesso di frequentarlo cinque anni fa devo dire che l'esperimento di non avere social per parecchi mesi mi ha fatto bene ho per un po usato tik tok anche lì dopo che hanno dimezzato non so perché i follower da 7.000 che erano a 3.000 adesso siamo tornati a 4.000 all'inizio anno ho smesso di usarlo e quindi vi consiglio a tutti di fare questo esperimento togliete i social proprio toglieteli togliete le app diventate lasciate perdere l'influencer leggete libri e guardate wikipedia che è uno strumento fantastico wikipedia anche per quello vi ho messo il link per ricordarvelo mi sono mantenuto in pari con il flusso youtube a volte appunto cancellando video dal flusso il monitoraggio dell'auling è continuato ve l'ho detto e anche l'altro e quarto mese di disintossicazione da caffeina avevo fatto i miei esperimenti sia motivante ma cosa quindi questi erano gli esperimenti del mese vediamo un po l'intrattenimento ecco vi ho promesso qualcosa dell'oculus cast l'oculus cast è un visore è purtroppo del succhi hamburger si è comprato la ditta perché non è capace di farselo da solo comunque è un fantastico strumento nonostante tutto lo uso anche se cerco di usare sempre meno le cose del succhiatore del succhi hamburger tornerò presto anche whatsapp quindi sono mi contra contattare più li ecco quali sono i miei due giochi preferiti da seduto e trovo serve the universe che divertentissimo ed è fatto dal cartone di griffin è un puzzle game nel seduto e angry bird i love pig che invece è un puzzle game più strategico tiri l'uccellino e butti giù delle strutture con dentro dei maialini ma in piedi e dove dal suo meglio e i miei preferiti sono pistol whip che è come una sorta di bit saber non mi piace molto questo invece è una sorta di tipo john wick il film ma in movimento quindi escono i cattivi gli spari a ritmo di musica e il più spettacolare the climb una simulazione di arrampicata libera che appunto mi ha aiutato a superare come vi dicevo prima la la paura delle altezze che è stata una forse anche delle ragioni che mi ha avviato verso la pnl all'inizio non riuscivo a fare il secondo gradino della da sempre avuto paura delle altezze ma era diventata veramente una cosa tipo non riuscivo a fare secondo gradino di una scala e con la cura delle fobie della pnl un po di esercizi ripetuto un po di volte non subito si è ridotta molto e devo dire che questo sfidare questa cosa con un videogioco molto realistico in cui tu scali è l'altro passo cioè quando finisco c'ho tutti i piedi contratti devo usare la pallina roller lì da passare sotto i cosi quindi questa sorta di adrenalina di sfida se stessi in modo assolutamente sicuro per me è fantastica per chi vuoi non visualizza per quelli di voi che la domanda numero uno nella mia lista mente quando l'abbiamo aperta nel marzo 99 prima domanda che tutti facevano ma io come faccio usare queste tecniche non visualizzo non visualizzo poi la gente appassionata di sogni lucidi vuole avere allucinazioni ecco comprate un visore di realtà virtuale il cast è il più economico costa costa di pay io ho preso quello più costoso 4 50 però in italia costa 350 euro in america costa 300 dollari lo mettete su e anche solo i video che trovate la qualità di ricchezza potete un giorno essere sull'imalaia mentre qualcuno lo scala vedere com'è volare sotto un tempio tibetano è veramente appassionante ci sono tantissime esperienze e sempre nell'intrattenimento lasciando parte della realtà virtuale che volevo citare almeno una volta più importante mi sono fatto un po di maratone nel mese di dicembre che è un mese anche un po di famiglia riposo come se sapete un'altra delle mie regole è l'intrattenimento solo in compagnia un guy ricci ex di madonna se non sbaglio un regista straordinario rock'n'roll e the gentleman altamente raccomandati in cima alla classifica ho finito tutti i film di Shyamalan M. Night Shyamalan un regista anche attore in ghiano molto bello in particolare due che non avevo visto erano oltre a quello che mette insieme Split e l'altro che non avevo visto erano The Village e Lady in the Water mi sono piaciuti ecco poi c'è un film che mi ha colpito questo mese The Countant perché perché un elogio all'OCD al disturbo ossessivo compulsivo alla disciplina vi farà bene il giorno dopo ho messo a posto casa parla di un... non vi dico niente... di accountant con uno di quegli attori belli americani mi ricordo come sono Sidney Sibiglia attore regista italiano ho rivisto tutta la trilogia di Smetto Quando Voglio fino a Masterclass ad Onorem eccetera e l'Isola delle Rose che è uscito su Netflix c'è tutto su Netflix e mi piace per il concetto di anticonvenzionalità e anarchia e poi ho guardato anche due film di Donato Carrisi, La ragazza da nebbia, L'uomo del labirinto anche quelle penso su Netflix, non lo so su Sky mi sono divertito a guardare Bisio, Cops, una banda di ladri divertente insomma divertimento senza colpe e anche su Netflix la serie 4 di Sabrina che è uscita a fine anno e Queen Gambit, La regina degli scacchi, intelligenza e ossessione ancora una volta che ritorno al concetto che per avere quel livello di performance deve avere ossessione e ho finito anche questa serie, cos'è la quinta di Star Trek Discovery e anche The 100, la serie settima su Infinity che non è ancora finita però l'ho seguita allora vediamo gli investimenti ecco ho trovato un nuovo gruppo, un nuovo tipo di proteine su Amazon che sono meglio di quelle che usavo per la salute le migliori proteine sono da pascoli in cui le mucche sono libere, proteine del siero e del latte e il posto migliore al momento è l'Irlanda, quindi queste sono proteine irlandesi sono meglio per la salute, non sono isolate, sono concentrate che è un processo diverso, c'è un po' meno di proteine, un po' più di altri fattori del latte ma come sempre c'è dentro il colostro, c'è dentro la lattoferrina che sappiamo adesso è un buon antivirus, è il primo modo di proteggersi anche dimostrato dalla nostra Università di Polo 3 di Tor Vergata aiuta la lattoferrina dal colostro, aiuta appunto a prevenire le infezioni da Covid tra l'altro c'è un'altra invenzione che non è italiana ma è, adesso non mi ricordo un'azione, comunque questo spray che si spruzza, c'è anche su Amazon poi iscrivetevi al gruppo Telegram, casomeri fatemi la domanda ve lo cerco che si spruzza nelle narici fondamentalmente cosa hanno fatto? hanno messo in una soluzione viscosa che rimane lì del bezalconio cloruro che sappiamo essere un buon disinfettante usato nei colliri, negli occhi è stato messo lì e hanno dimostrato che aiuta la prevenzione dal virus ovviamente dovete tenere la bocca chiusa, quello non l'ho mai sentito dire ma è importante, dovete respirare dal naso ho aggiornato delle cose che ho sempre in casa, sono lamache, semi di zucchi, fiocchi d'avena recentemente anche ho preso della Shwagand in polvere, poi ve la posterò ma veniamo agli acquisti grossi di questo mese, c'era un'offerta Amazon e quindi l'ho colta, ho aggiornato i miei robot domestici io uso solo gli iRobot, uso la Roomba, ho aggiornato, erano un po' di anni che non l'aggiornavo avevo una 980 in montagna ma qui non avevo niente cioè ne avevo una vecchia, un 860 mi pare all'I7 Plus con svuotamento automatico, spettacorale non ho preso la più bella perché il prezzo era assurdo e poi ho preso la Brava Jet, questo è il top della linea invece la lava pavimenti nuova io la Roomba la chiamo Capocetta perché va a cozzare con la testa contro tutto e l'altra la chiamo Sputazzina perché spuzza in giro e poi pulisce devo dire che sono molto soddisfatto anche quando adesso non può passare la donna del puliziano, quando passava prima i pavimenti erano puliti ma adesso sono splendenti ecco, poi ho preso dei panni lavabili extra eccetera un po' di ricariche, ho preso una tastiera bluetooth per il televisore nuovo ne ho parlato il mese scorso, andatevelo a sentire, quello che ho scelto ecco, parlavamo di covid, ecco, la quercetina in caso di sintomi la quercetina ha dimostrato di essere non so le ricerche che l'abbia fatta, comunque l'ho sentito da fonti attendibili funziona bene, da 1 a 3 grammi si prende, finché i sintomi non si attenuano si prende quella dose, quindi uno inizia con 1 grammo se non si attenuano 2, 3, finché si attenuano e avendo anche la qualità di quercetina se dovete trovare un audio più dettagliato nel gruppo Telegram che basta che cercate su Telegram ziohack, trovate la pagina annunci collegato a un gruppo oppure andate in gruppo, mi pare Telegram migliorati.org, è tutto attaccato comunque vi metto il link qua dappertutto sul sito eccetera, cercateli nel gruppo di discussione ho messo degli audio che ne parlano in più dettagli, comunque fondamentalmente aiuta in caso di infezione e in più ha la capacità di ripristinare aiutare a ripristinare la barriera ematoencefalica molto importante, quella che protegge il nostro cervello è importante non avere buchi lì e come è importante avere l'intestino aiuta anche col gut lining come si chiama in inglese ovvero la barriera intestinale anche lì a ripristinarla quindi ho fatto un ciclo molto interessante secondo Barry Sears l'apice delle sostanze di cui siamo carenti e ci servono solo gli Omega 3 ne ho presi ancora Nordin Naturals per me è l'azienda migliore che c'è su Amazon italiana poi un po' di Carey un po' di Amazon guardatevi i link 7 libri letti siamo arrivati a 56 libri quest'anno poi li metterò in ordine in classifica personale ovviamente sul sito ci sono già ma li aggiornerò e metterò anche un audio che li commenta un po' meglio comunque uno per uno il cinquantesimo è stato Carlo Rovelli 7 brevi edizioni di fisica molto piacevole colto poetico bravissimo Rovelli un fisico italiano che lavora se non sbaglio a Ginevra mi ha ridestato l'apprezzamento per la bellezza che c'è nella scienza e mi ha ricordato un pochino della fisica moderna ecco lo raccomando è breve si legge in fretta della Delphi un libricino breve per chi si vuole riappassionare alla scienza meno social più libri come questo quello dopo è controverso conosco questa autrice è un libricino molto scorrevole vorrei fare una recensione ma purtroppo non ricordo nulla di questo libro magari una brava ipnotista come dice comunque è un libro che parla di libertà soprattutto a livello sessuale non dico il titolo qua perché lo metto nel coso insomma cerco di evitare cose controverse sarà sotto share to pay se volete cercarlo altro libro interessante il cinquantosesimo dell'anno che chiude il mio obiettivo di leggere un libro a settimana ha un obiettivo così cioè se lo raggiungo sono contento se non lo raggiungo sono contento lo stesso perché l'ho comunque letto tutti i giorni questo è un autore di un settore diverso si tratta di Chase Hughes che ha scritto un romanzo Phrase 7 conosco questo autore è un settore diverso è un romanzo interessante di mix di narrativa spionaggio e tecniche sulla storia basata sulle tecniche ipnotiche ericksoniane premesso che ve lo dico chiaro è 100% fiction conosco collaborato personalmente insomma via conoscenza online collaboratori di quest'autore so molte cose su di lui le tecniche non funzionano nel modo descritto del romanzo ve lo dico si possono fare cose simili quelle descritte ma non così con un metodo diverso l'ipnosi diretta comunque la lettura mi è piaciuta l'ho trovato molto interessante anche perché ho scoperto degli aggiornamenti su gadget spionistici che non conoscevo come la shimmer scarf eccetera quindi è stato discretamente ben ricercato questo romanzo nelle descrizioni geografiche non me ne frega una mazza però anche in quella di questi aspetti qua poi 53esimo libro in realtà l'ho letto il mese scorso me ne ero dimenticato giving one tongue super sidekick questo autore faceva li ho letti tutti i suoi libri fumetti motivazionali molto carini molto belli e li avevo letti tutti purtroppo questo è un fumetto tradizionale per ragazzini poco interessante per me etichettato come acquisto in cauto su live work store andiamo avanti ogni tanto dopo non avevo letto bene la descrizione Warren Murphy Richard Sapir continua la mia avventura nel mondo del Sinanju di Chun e Remo Williams altri tre romanzi questo mese poi vedrete sono andato avanti con una piccola deviazione scorso mese e questo è tutto purtroppo adesso ho una notizia poco bellina questa probabilmente è l'ultima puntata di Eclife quantomeno in questo formato perché perché ci metto tanto ci sono volute ore per farla così per fare il pdf per fare l'articolo sul blog c'è tanto 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 lavoro e preferisco concentrarmi e fare meglio sulle cose commerciali che faccio HNA eccetera comunque anche perché sinceramente voi non avete aiutato insomma non avete messo i like non avete messo commentato a me non mi piace supplicare so di non diventerò mai un influencer non lo voglio diventare però se avete facciamo così se avete una community mettete like fate commentare dite di ascoltare vediamo se le visualizzazioni di questo video sono almeno il doppio vado avanti ma se rimane quei numeri lì posso continuare a relazionarmi con i miei clienti direttamente nel canale Telegram mi metto il link perché è ancora gratuito e i clienti sono già iscritti a KNA KNA Deluxe dove abbracciamo la fatica il dolore diventiamo discepoli della disciplina KNA solo per gli appassionati del miglioramento personale ma anche voi lo siete ovviamente qualcuno ci investe qualcuno no quindi ho già il mio gruppo preferisco concentrarmi sui prodotti commerciali però magari metto questo diario non lo so non ho ancora deciso più probabilmente lo spezzetto e lo metto all'interno del gruppo Telegram magari poi faccio qualche pezzetto anche per YouTube ma non in questo formato così lungo ecco e questo è tutto sotto poi nell'audio trovate tutte le cose viste, lette ascoltate di questo mese iscrivetevi al gruppo Telegram è gratis non c'è pubblicità non c'è niente rispondo alle domande se sono adatte intelligenti e posso farci qualcosa e questo è tutto un grosso abbraccio a tutti vi saluto vi auguro un buon 2021 e ricordatevi che se non state migliorando peggiorate di default quindi occupate del vostro miglioramento e in questo audio vi ho dato delle idee su come lo faccio io e come lo potete far voi non guardate come lo faccio io adesso partite facendo il piccolo passettino perché tutto è iniziato con un piccolo passettino leggere un po' di più guardare un po' di più meditare eccetera eccetera fate il vostro minuto non è necessario fare il superman ecco soprattutto all'inizio costruite l'abitudine e questo è tutto alla prossima forse ciao